...quella che è effettivamente la situazione giovanile soprattutto per i ragazzi che abitano dalle nostre parti dove si evinge una patria generale da parte di molti giovani che non hanno, purtroppo, non è una manganza loro ma molto spesso mancano gli spazi giovanili, gli spazi recreativi, mancano anche gli stimoli per fare qualcosa di costruttivo nel futuro e molto spesso nei nostri testi si deve fare questa situazione soprattutto tramite dei messaggi che noi non possiamo definire unici perché molte volte non siamo diretti, non parliamo di cose materiali molte volte ci rifacciamo ai pensieri, ai sogni, ad altre cose diciamo, ci rifacciamo ai pensieri, ai sogni per esprimere delle cose che sono in realtà materiali ho preso il nostro batterista Gerlanda, sono ritratato dalle donne anche e niente, lui ha portato l'influenza del rock alternativo tipo F.Howers, anche di scisma insomma, diciamo che è un elemento importante del gruppo ha portato anche l'elemento di tardo al gruppo ha portato un po' di donne al gruppo ho preso il giorno questo è il nostro paese ho preso il nostro paese e non ho preso il nostro paese abbiamo testo di giocato Vorrei provare, a metire lontane, in per sé. Vorrei provare, a metire lontane, in per sé. Vorrei provare, a metire lontane, Vorrei provare, a metire lontane, Grazie.